anticipazioni tempesta d'amore domenica 20 dicembre 2020 quando paul inciampa pesantemente durante la gara bella esulta e poco dopo vince lucy è sconvolta dal fatto che il moser non abbia prestato soccorso all'inver dirk ricorda le parole di steffen linda è accanto a lui solo per pietà pertanto nasconde alla ex il suo miglioramento si augura così di ricevere più attenzioni fabien vuole convincere vanessa ad organizzare una campagna di crowdfunding ciò potrebbe aiutarli a raccogliere molti soldi per prepararsi in maniera ottimale al campionato tedesco di scherma robert è sorpreso werner è scomparso nel nulla e non risponde più al cellulare dove è finito grazie ad andrè scopre che suo padre è appena arrivato in italia forse sta indagando su eva salfield e e e e e e e Grazie a tutti.